Contro tutte le forme di violenza, Tenim Chakussi è una rassegna promosta dal Comune di Napoli, articolata in varie iniziative, con lo scopo di promuovere, sensibilizzare e condividere valori positivi, sani e liberi delle relazioni tra i sessi e denunciare la violenza sulle donne e su chi si identifica nel genere femminile. In tutti questi anni si è molto parlato di violenza sulle donne, si è creata una sorta di assefazione sia attraverso i messaggi dei media che purtroppo attraverso eventi tragici a cui ci siamo quasi abituati. Basta pensare che solo la settimana scorsa cinque donne sono state uccise. Allora probabilmente dobbiamo cambiare qualcosa anche nella comunicazione di tutto questo e non solo testimoniare e denunciare la violenza, cosa che avviene, ma anche andare nella direzione di dare messaggi positivi, soprattutto ai giovani, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze. L'iniziativa, presentata questa mattina in sala giunta, durerà dal 20 novembre al 18 dicembre e propone una riflessione, attraverso assemblee, seminari, laboratori ed esposizioni, sul rispetto della dignità di tutte le persone e sul valore delle differenze, con profonda attenzione alla libertà e all'autodeterminazione. Oggi noi ci troviamo di fronte a una serie di attività di discriminazione e di violenza nei confronti di persone che magari hanno difficoltà anche a collocarsi tra gli uomini e le donne, ma sono persone. Il maggior numero di episodi di violenza si fanno in casa, quindi anche questo tabù che è il luogo più insicuro e la strada è una cosa grave. La strada è anche pericolosa, in strada anche ci sono violenze, ma in casa molto di più. E molti episodi di violenza in casa nei confronti delle donne e nei confronti dei bambini non vengono denunciati. Io credo che l'obiettivo principale deve essere quello di non lasciare sole le donne esposte e creare una rete di protezione che non è solo l'ascolto, ma anche l'accoglienza, anche il prendersi cura, il prendersi in carico di una persona che subisce violenza.